L'Italia degli anni 70 non era migliore di quella di adesso, ma di fronte a un paese più povero di quello odierno e squassato dalla violenza nelle piazze, i giovani avevano un maggiore entusiasmo nell'approcciarsi alle sfide della vita. E' questa la tesi di fondo del libro del giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, Basta piangere, presentato all'auditorium della Regione dal Garante per i diritti dei minori Grazia Sestini, dalla Vice Presidente della Giunta regionale Stella Targetti e dal Presidente della Commissione Cultura Nicola Danti. Cazzullo si rivolge direttamente ai ragazzi di oggi, disillusi rispetto a un futuro su cui non sentono di avere alcun potere. I ragazzi devono essere consapevoli che non sono nati in un paese sbagliato, sono nati in un paese che va profondamente cambiato, ma che ha nel mondo globale delle grandi opportunità. Per questo mi sento di dir loro basta piangere, perché la mente la volta è giustificata, ma è inutile e a lungo andare è controproducente. Se negli anni 70 la sfida per molti ragazzi era quella di uscire indenni dagli scontri di piazza o trovare una via di fuga dalla povertà, oggi la paura più grande per i giovani riguarda il lavoro. Troppe opportunità da un lato e troppa concorrenza possono infatti spaventare. I ragazzi troveranno lavoro là dove serve un sapere, una tecnica, un'esperienza e quindi devono studiare di più, formarsi meglio e anche recuperare il gusto del lavoro ben fatto. L'orgoglio del lavoro fatto con le mani, i mestieri d'arte, l'artigianato di qualità, il made in Italy, l'agri-industria, noi dobbiamo puntare su noi stessi. Per questo serve un rinnovamento generale che, sottolinea Cazzullo, sembra essere partito proprio da Firenze. Grazie.